cari aspettatori e cari ascoltatori eccoci per un'altra puntata oggi speciale perché lunedì ci sarebbe dovuto essere il giannizzo nero e ci siamo noi ad aspettando con aspettando il giannizzo nero che oggi non arriverà e che parleremo quindi di saluto subito fabio benvenuto professor felici e grazie per essere qui anche oggi pur con questo breve preavviso ricordo agli interessati alle mie puntate che vogliono intervenire in diretta che possono oltre a sapere gli orari sul mio gruppo casus belli sul gruppo casus belli board game o anche sul mio facebook soprattutto marco mengoli possono anche mettere il mi piace qua su spricker la stellina in modo che gli arrivi una mail ogni volta che parto che inizia una diretta cosa che di solito mi dimentico di dire quindi adesso invece confermiamo dunque oggi quindi come puntata speciale intanto ricordo a tutti che domani sera per le puntate dedicata a didattica ludica avremo ospite dico il nome d'arte perché lo conosciamo di più così arco de leggen che è l'autore del gioco di ruolo i primi re dedicato al periodo mitologico diciamo così monarchico romano ma ce ne parlerà meglio domani oggi invece didattica a distanza per quanto riguarda la mia classe quinta dove insegno andiamo avanti con la conoscenza di montale eugenio montale che a cui ho dedicato alcune puntate durante lo scorso lockdown a marzo aprile insomma del 2020 e che adesso invece ne approfitto avendo anche questa una quinta per aumentare un po la nostra conoscenza dell'autore e andando ad approfondire anche la sua seconda stagione stilistica l'anno scorso c'erano fermati alla prima ricordo a tutti gli interessati che tutti i video passati i video tutti i podcast passati si possono trovare sul mio canale youtube cercando marco mengoli per l'appunto e sono divisi in comode playlist appunto divisi fra storia italiano didattica ludica il non sportivo l'altro mio podcast e tutto il resto quindi chi è interessato ad approfondire montale può recuperarlo da quelle puntate allora dicevamo montale seconda stagione poetica che è raccolta in due scusatemi il bisticcio raccolta in due raccolte per l'appunto le occasioni e la buffera e altro allora le occasioni 1939 è quella probabilmente più ermetica proprio di montale teniamo conto che appunto siamo negli anni del pieno fascismo insomma il 39 è un anno che tutti quanti ci ricordiamo appunto come l'anno che sta per portare alla seconda guerra mondiale anche l'anno dove appunto il fascismo ha già entrato le leggi nazionali l'anno precedente ha praticamente obbligato la tessera fascista per qualunque attività di un certo livello o quasi tessera fascista che fratto montale rifiuta di fare e quindi perde il suo lavoro principale quello dei bibliotecari ecco in questo clima dove appunto non conviene esporsi più di tanto montale appunto si dedica all'ermetismo che appunto è perfetto e soprattutto cerca di uscire un poco dall'ambito contemporaneo parlando appunto di queste occasioni che sono quello i momenti in cui la memoria interviene sono le occasioni e è anche un momento in cui veramente cosa che il nostro di seppia non era così ancora definita si crea un'altra delle caratteristiche fondamentali di quest'autore che è il rapporto col sesso femminile perché inizia a essere presente nelle occasioni una serie di figure femminili che poi si porteranno avanti per tutta quanta la carriera di montale per cui la donna amata o la donna del ricordo sarà comunque una figura sempre presente e sempre importante la più famosa si chiama Clizia poi andremo a vedere meglio di chi si tratta e poi ci sono altre figure femminili con altri pseudonimi che arriveranno successivamente compreso la moglie che verrà soprannominata Mosca e praticamente attraverso questi barlumi queste occasioni della memoria del ricordo il poeta lì forse con l'arrivo con l'aiuto della donna amata con l'aiuto del ricordo della donna amata sono quei momenti in cui quel famoso muro di cui montale parla spessissimo ricordiamoci mareggiare pari d'assorto ricordiamoci non chiedici la parola quel muro che ci impedisce di vedere il senso della vita il senso della realtà ecco in quei casi abbiamo un barlume grazie alla donna un poco questo muro pare non dico sgretolarsi ma pare avere una piccola fessura attraverso cui possiamo vedere dall'altra parte e fa nascere la speranza appunto attraverso la donna amata di poter comprendere il senso della vita e poi appunto dopo la seconda guerra mondiale in situazione decisamente diversa esce la buffera e altro che anche se esce nel 56 in realtà la maggior parte delle liriche è stata preparata è stata scritta durante la seconda guerra mondiale infatti è proprio la seconda guerra mondiale che si riferisce il titolo la seconda guerra mondiale sarebbe questa buffera appunto questa tragedia che sconvolge il mondo e di questo di questa non leggeremo nulla delle occasioni leggeremo invece io leggerò in questo podcast la poesia il sogno del prigioniero che parla di campi di concentramento anche se parla soprattutto i campi di concentramento sovietici dei gulag ricordiamoci che nel 56 i campi di sterminio nazisti non erano ancora così diffusi come descrizione e come consapevolezza diciamo così dei cittadini e poi invece con un intervento preso da la trasmissione all'otto della sera fantastica trasmissione di Radio 2 che manca ancora tanti sentiremo invece una descrizione fatta da un autore molto più capace di me dedicata alla primavera itleriana appunto poesia che nasce conseguentemente a una visita fatta da Hitler a Firenze se non sbaglio nel 38 proprio e quindi insomma queste sono le due poesie che i miei studenti studieranno che succede nelle poesie di questa raccolta della buffera allora intanto lui parla di una donna sola non ci sono le altre citate nelle occasioni Dora Marcos Liuba Gerti eccetera è rimasta solo Clizia quella più importante che adesso vedremo tra poco chi è comunque Irma Brandeis una studentessa americana di letteratura italiana con cui ha vissuto un'intensa storia d'amore prima che lei di origine ebraica fosse costretta a lasciare l'Italia prima che la situazione potesse peggiorare e questa Clizia però gli rimane gli rimane nella mente diventa la sua la musa principale appunto della buffera ed è quella attraverso cui Montale esamina la realtà anche se attenzione non la esamina mai per condannarla non la esamina mai per proporre una poesia ricorda il nostro testo che oggi l'ho ancora nominato di sacco incontro con la letteratura a trebile età contemporanea nella Pearson non la esamina mai per denunciarla la esamina per comprendere la realtà che è sempre comprendere la realtà per Montale vuol dire sempre una cosa noi viviamo male noi stiamo male abbiamo appunto il mal di vivere perché non non comprendiamo non riusciamo ad arrivare al senso della nostra esistenza e quindi viviamo male e questo invece è un periodo in cui la poesia è impegnatissima in cui gli autori soprattutto quelli che oggi definiremmo di sinistra fra virgolette fra una marea di virgolette perché la sinistra di oggi è decisamente diversa dal concetto di sinistra dell'epoca invece è tutto una letteratura fortemente orientata alla denuncia di quanto era accaduto pochi anni prima e fortemente orientata a una presa di posizione decisa presa di posizione decisa che poi spesso viene abbandonata da autori dopo poco pensiamo al Calvino inizialmente autore che dovremmo studiare tra poco Calvino fortemente all'inizio legato al parito comunista ma poi che lascia in dissidio col partito e con quello che sta facendo l'Unione Sovietica negli stati oltre la cortina di ferro però appunto nel 56 invece Montale viene fortemente criticato per questa sua poesia che pare ragionare appunto sul senso della vita o sull'assenza dello stesso piuttosto che appunto condannare quanto avvenuto precedentemente aggiungo ancora un paio di di caratteristiche nella bufera il concetto base ci ricorda il nostro testo è l'essenzialità cioè è già insito nell'aspetto ermetico allora l'ermetismo nasce dalla concezione ungarettiana di cercare la parola che la chiude il significato migliore e poi l'ermetismo la espande nel senso che si cerca la parola perfetta ma si cerca la parola perfetta non più attraverso diciamo così un procedimento dichiarato chiaramente esplicativo come quello che tutto sommato adottava il primo Ungaretti con la prima guerra mondiale ma attraverso magari un'analogia spesso anche nascosta in puntate passate ho già parlato del correlativo oggettivo di Elliot e dell'oggetto ecco ho un vuoto adesso e dell'oggetto oh mamma mia non mi viene in mente l'oggetto emblematico ecco non mi veniva l'oggetto emblematico di Montale in cui appunto si cerca la sempre c'è sempre la ricerca della parola assoluta e la parola perfetta ma si cerca anche l'analogia che in realtà il lettore deve cogliere l'oggetto che meglio definisce simbolicamente quello che vogliamo dire poi però il lettore deve approfondire come il famoso muro di prima che sta a rappresentare appunto la chiusura rispetto alla consapevolezza del senso della vita ecco quindi in questo ambito si ha l'essenzialità montagliana modo sobrio di comunicare emozioni e stato d'animo che non vengono esibiti citando Montale non vengono spiattellati cioè come se bah beccati i miei sentimenti no io ti rappresento delle situazioni e tu attraverso questi attraverso un procedimento analogico puoi capire come mi sento quindi questi sentimenti vengono assorbiti negli oggetti che appunto diventano esplicativi della mia condizione e qua ovviamente siamo come effettivamente il momento ermetico è agli opposti di quello che veniva scritto il libro ci parla del romanticismo dove appunto invece il sentimento era iper presentato altro che spiattellato era veramente riversato contro sul lettore con una potenza enorme ma anche contro senza arrivare al romanticismo quello che veniva presentato fino a 20-30 anni prima insomma manco sì più o meno 20-30 anni prima le liriche i d'annunzio la ricerca del linguaggio aulico la ricerca della complessità della parola fine a se stessa estetica e tutto e il montale si colloca come in realtà anche gli ermetici si collocano assolutamente all'opposto di questo di questo concetto e quindi praticamente nella bufera se l'oggetto è emblematico l'abbiamo già visto i nostri di seppia la prima raccolta di cui parlavo nelle puntate precedenti quella dell'anno scorso ecco nella bufera abbiamo veramente questo concetto che arriva al suo estremo così come arriva all'estremo diciamo così l'ermetismo di montale in queste due raccolte attenzione però ci ricorda sempre il libro che noi potremmo pensare che con questi simboli montale si voglia mettere in contatto con l'inconscio siamo sempre in un'epoca segnata ovviamente dalla rivoluzione freudiana di cui abbiamo già parlato abbondantemente ecco in realtà tutto il contrario in montale gli oggetti sono simboli ma che sono raggiungibili dal raziocinio dalla ragione mentre invece altri ermetici scelgono il surrealismo cioè appunto il collegamento diretto con l'inconscio ecco montale invece pone la ragione soprattutto pone la ragione che deve riflettere su queste immagini pone la ragione come unico baluardo contro invece l'irrazionalità il contrario di ragione no irrazionale della vita della vita contemporanea soprattutto dopo un disastro di proporzioni cosmiche come è stata la seconda guerra mondiale e il fascismo ancora prima su tutti i fronti e quindi la sua poesia ha ragionato anche metricamente abbiamo già parlato dell'importanza della musicalità di montale che gli hanno dato i suoi studi di i suoi studi lirici giovanili ecco abbiamo invece in questo caso una poesia fortemente ragionata studiata in cui usa le indecassillabi in cui usa le strofe divise in strofe in cui usa le rime cosa abbiamo già visto tranquillamente anche i nostri di seppia e e quindi abbiamo un discorso ci ricorda il testo di montale che è sintattico e non paratattico ripasso generale di queste parole che si fanno in seconda superiore il ragionamento sintattico è quello basato sulle subordinate il ragionamento paratattico invece è quello basato sulle coordinate quindi un ragionamento paratattico è una cosa molto più immediata più diretta appunto più legata magari anche a un aspetto di inconscio quello subordinato la subordinata invece è la sequenzialità della ragione che appunto colloca su livelli differenti conseguenziali il ragionamento mentre invece ricorda il testo l'allegria di Ungaretti è tutto paratattico sono tutti piccoli flash pensiamo per esempio a veglia di situazioni una fianco all'altra una notte intera di fianco al compagno massacrato non ho scritto lettere piene d'amore punto non sono mai stato accanto alla vita punto quindi proprio qui siamo invece al completo contrario adesso vedremo leggendo montale attenzione perché poi appunto montale dice la ragione come si può appunto imporre si imporre attraverso l'arte che può trascendere i limiti della ragione stessa adesso io provo a leggere il sogno del prigioniero sperando di riuscire a starci col tempo che abbiamo comunque insomma ci proviamo sentite che sto sfogliando drammaticamente appunto ah no c'è un altro paio di cose devo dire quindi adesso vediamo se finisco la presentazione poi vediamo se riesco a leggere anche la poesia se no andiamo alla prossima puntata allora in realtà direi che sì direi che non c'è nulla di particolare ecco sì un aspetto generale che ci ricorda il testo appunto che pur avendo delle raffigurazioni di Cristia per esempio che sembrano quasi cristologiche lo vedrete nella primavera italiana in cui Cristia diventa praticamente una copia un nuovo Cristo un nuovo Cristo che appunto scende una donna angelo anche possiamo dire citando il citando appunto la vecchia definizione che risale allo stil novo a Dante e a Cavalcanti ecco Cristia comunque pur avendo queste conformazioni Montale non va mai nell'ambito religioso rimane comunque un poeta profondamente laico e e e questo è un aspetto che appunto andava e ha giusto sottolineare così come giusto sottolineare e questo si intravede anche nel nel prigioniero che stiamo per leggere spero che l'altro modo per resistere per cercare di superare non di superare ma di resistere questo mal di vivere questa realtà cui noi non riusciamo ad attingere completamente anzi pochissimo il famoso muro che ci chiude la vista uno degli unici modi per sopravvivere oltre alla ragione alla poesia è la fratellanza è che l'umanità intera si riunisca sia fratelli e questo è un messaggio che avevamo già presente per esempio in Leopardi pensiamo appunto alla Ginestra all'ultimo periodo leopardiano e ok direi che sì adesso passiamo al sogno del prigioniero in cui si parte da un'ambientazione diciamo così appunto di un prigioniero in un gulag sovietico per poi pian piano questo prigioniero diventa uno specchio diventa per procedimento analogico l'uomo contemporaneo che è alienato che è prigioniero di una società che gli dà solo due scelte come vediamo poi tra poco però alla fine anche questa poesia si concluderà con una speranza ok io direi che a questo punto qui sì ricordiamo che il prigioniero rappresenta l'intellettuale che è anche torniamo anche al discorso di prima è un intellettuale quello da cui si vede il concentrato montale che sembra appunto talmente legato incatenato a una posizione politica che non si sente più libero insomma fondamentalmente e questo è un qualcosa che si sente cioè Italo Calvino si inventerà quel romanzo straordinario che è il barone rampante qualche anno dopo in risposta a questo che diventa veramente come scrive Umberto Eco un esempio per gli intellettuali uno che per capire che succede di sotto deve salire sugli alberi fare qualcosa che non fa nessun altro e distaccarsi completamente ma continuando a dialogare con quelli sotto e anzi proprio dalla sua posizione sopraelevata riesce a dirigere meglio ecco invece montale non riesce a trovare la soluzione che trova Calvino montale si ritrova prigioniero e l'unica soluzione che trova è il sogno è l'uscire dalla realtà da cui appunto il titolo il sogno del prigioniero che spero di aver scritto bene nella puntata se no correggo il sogno di un altrove il sogno di qualcuno che forse è la donna amata che possa dargli finalmente vero significato alla vita e alla storia allora adesso io lo leggo e poi dopo vediamo se riusciamo a se riusciamo appunto a spiegarlo per bene albe e notti qui variano per pochi segni il zigzag degli storni sui batti freddi nel giorno di battaglia mie sole ali un filo d'aria polare l'occhio del capoguardia lo spioncino crack di noci schiacciate un oleoso sfrigolio dalle cave girarrosti veri o supposti ma la paglia è oro la lanterna avvinosa è focolare se dormendo mi credo ai tuoi piedi la purga dura da sempre senza un perché dicono che chi abbiure e sottoscrive può salvarsi da questo sterminio d'oche che chi obbiurga se stesso ma tradisce e vende carne da altri afferra il mestolo anziché terminare nel patè destinato agli dipe silenziali tardo di mente piagato dal pungente giaciglio mi sono fuso col volo della tarma che la mia suola sfarina sull'impiantito coi chimoni cangianti delle luci sciorinate alla oroa dai torrioni ho annusato nel vento il bruciaticcio dei buccellati dai forni mi sono guardato attorno ho suscitato iridi su orizzonti di ragnatelli e petali sui tralicci delle inferriate mi sono alzato sono ricaduto nel fondo dove il secolo è il minuto e i colpi si ripetono i passi e ancora ignoro se sarò al festino farcitore o farcito l'attesa è lunga il mio sogno di te non è finito adesso a parte il fatto che ho letto malissimo però ogni volta che mi avvicino a Montale becco sempre robe che prima non avevo notato o pensato mi accorgo di qualcos'altro comunque andiamo a cercare di spiegare quello che la poesia voleva dire almeno a un livello superficiale perché poi appunto è un poeta su cui si dovrebbe si dovrebbe continuare a ad approfondire a vedere e a studiare per un anno per una vita ok allora albe e notti qui variano per pochi segni siamo in prigione non non c'è distinzione fra il giorno e la notte ci sono pochi segnali di questo tempo sempre uguale che continua il zigzag degli storni sui batti freddi adesso inizia a descrivere un pochino il suo sentimento cioè lui si appoggia a visioni esterne e li collega col suo pensiero quindi il zigzag degli storni sui batti freddi nei giorni di battaglia sono le uniche ali che ho mie sole ali il mio sogno è di volare di andare via e posso solo viverlo guardando questi storni che si appoggiano sulle torri di guardia un filo d'aria polare siamo sempre in Ongula che ricordiamoci Siberia l'occhio del capoguardia lo spioncino ecco tutti gli unici contatti che il prigioniero ha con il resto del mondo intravedere gli uccelli che volano l'occhio del capoguardia che ti osserva lo spioncino e poi i rumori che sente fuori il crack di noci schiacciate un oleoso sfrigolio dalle cave stanno friggendo qualcosa dai forni girarrosti veri o supposti questo rumore saranno veramente il girarrostio o sarà magari qualcos'altro magari qualche strumento di tortura si domanda il prigioniero però però c'è qualcosa che mi salva perché la paglia è oro la lanterna diventa un focolare se quando dormo io fingo io mi credo ai tuoi piedi io mi fingo mia clizia mia donna amata di essere ai tuoi piedi la purga dura da sempre senza un perché questo è un verso micidiale ma perché dura da sempre a livello umano e da sempre l'uomo vive in queste condizioni vive come un prigioniero senza un perché non c'è ragione anzi il problema è proprio che l'uomo non trova la ragione per il modo in cui si sente dicono che chi abbiura e sottoscrive può salvarsi da questo sterminio di oche ecco se tu rinneghi le tue idee se abbiuri allora ti salvi altrimenti sei come un'oca al macello come poi adesso vedremo nelle immagini che verranno dopo destinata allo sterminio che chi obbiurga se stesso ma tradisce e vende carne d'altri quindi non solo quindi chi obbiurga chi abbiura usando il termine tristemente noto per esempio per Galileo chi dice ho sbagliato in più vende carne d'altri in più tradisce sono situazioni tipiche vissute anche durante la seconda guerra mondiale i terribili i terribili torture i terribili imprigionamenti effettuati da tutte le parti in causa nazisti sovietici americani non è che la struttura fosse fascisti fosse particolarmente diversa l'unico modo per salvarti in quelle condizioni è rinunciare ai tuoi ideali rinunciare ai tuoi rinunciare a te stesso magari segnato dal dolore magari segnato dalla costrizione e tradire e denunciare gli altri vendere la carne degli altri ecco se tu fai in questo modo dicono ricordo nella poesia che tu diventi non quello che si trasforma in patè cioè che viene mangiato ma ferri il mestolo diventi quello che dà il cibo non quello che fa parte del cibo cibo destinato patè destinato agli dei pestilenziali agli dei crudeli agli dei della pestilenza della malattia agli dei rivoltanti quindi l'unico modo è tradire l'unico modo per non essere divorato è divorare ci torneremo dopo c'è quel bellissimo farcitore farcito alla fine tardo di mente rimbambito dalle medicine dai psicofarmaci da da quello che ti toglie l'ucidamentale dalle torture piagato dal dal pungente giaciglio sì perché sappiamo già che è paglia la paglia è d'oro se penso che ci sei tu vicino a me o mia donna altrimenti la paglia punge e ti piaga mi sono allora io a quel punto in mezzo al dolore del mio giaciglio cerco anche stavolta col mio sogno di legarmi a qualcos'altro mi fondo col volo della tarma c'è una tarma che sta girando e per un attimo mi fondo a lei ma anche questa finisce malissimo perché la calpesto che la mia suola sfarina sull'impiantito coi chimoni cangianti delle luci sciorinate all'aurora dei torrioni queste luci che con la luce dell'aurora queste luci artificiali delle torri di guardia che con la luce dell'aurora dell'aurora cambiano mutano diventano quasi come dei chimoni orientali multicolori o hanno usato nel vento il bruciaticcio dei buccellati dai forni ancora il forno che prima sentivamo sfrigolare con l'olio adesso le ciambelle i buccellati però siete che termine importante le ciambelle che i forni fanno mi sono guardato attorno ho suscitato iridi su orizzonti di ragnateli e petali sui tradiccieri inferiati ecco continuo col mio sogno a trasfigurare la realtà per sopravvivere per mantenermi me stesso sogno arcobaleni dove ci sono le ragnatele sogno petali sulle mie sbarre sulle mie inferiate mi sono alzato sono ricaduto nel fondo dove il secolo il minuto c'è l'impressione che io posso uscire da questa condizione mi alzo ricado ricado nella mia prostrazione ricado nella mia prigionia dove ogni minuto è lungo come un secolo e i colpi si ripetono e i passi e ancora ignoro se sarò al festino farcito o farcito e qua ci torniamo ci sarà un banchetto finale l'abbiamo provato prima il patè e io non so se sarò il farcitore quello che appunto fa dal cibo quello col mestolo o il farcito o se sarò cibo io se sarò masticato se sarò distrutto tutto questo e in mezzo a questa terribile situazione l'attesa è lunga chissà quando lo saprò il mio sogno di te non è finito ma io ti sogno ancora o donna mia mia musa e forse l'unica speranza che ho per uscire da questa situazione una poesia terribile veramente estrema veramente angosciante che comunque si conclude con una lievissima infinitesimale speranza almeno ho il sogno a cui aggrapparmi cosa possiamo aggiungere che il libro ci sottolinea realtà che diventa esistenziale artista intellettuale la poesia in cui vive l'artista intellettuale è il mondo massificato è il mondo alienante è il mondo in cui lui non capisce è un mondo in cui appunto albe e notti cambiano sono uno apposta e l'altro invece sono praticamente uguali cambiano per pochi segni e la poesia deve trasfigurare la realtà ti trasforma in oro il pagliericcio ti trasforma la lanterna in focolare ti trasforma le lagnatele ti trasforma le inferriate e quindi la poesia ti fa riscattare da questa tua crisi esistenziale e tutto sommato appunto è il libro è la poesia che conclude il terzo libro che conclude proprio la bufera è praticamente un un'autobiografia in un certo senso un bilancio dell'esistenza rimontale che descrive sia il momento in cui prova rialzarsi che i momenti più numerosi evidentemente in cui invece cade ma nonostante cadda come dicevamo prima non si arrende non si arrende perché c'è sempre il sogno che ti tiene in vita la donna che che qualcuno vede appunto è la donna comunque anche dio anche se abbiamo detto che montale è un poeta fortemente laico la donna che ti può recuperare ti può fare uscire dalla tua situazione io spero di avere dato due spunti insomma su questa poesia montale sicuramente ho detto una marea di stupidaggini però sono sicuramente eccessivamente superficiale però però io questa poesia l'ho scelto di presentarla perché è anche una bella descrizione di quello dovrebbe essere la vita di un prigioniero in situazioni come queste forse anche un po' troppo edulcorata perché poi questo qui sta sempre chiuso dentro la prigione però ci sono stati anche casi di questo tipo sicuramente e quindi può fare anche da contraltare con la lettura di se questo è un uomo appunto con i lager nazisti con Auschwitz che quasi tutti i miei studenti hanno hanno fatto durante quest'anno quindi possiamo vedere anche l'altra l'altra faccia la faccia poetica di questa situazione va bene io adesso provo a rileggerla come facevo sempre anche lo scorso anno a vedere se questa seconda volta con questa seconda rilettura la poesia risulta più chiara all'ascolto dopo le descrizioni che ho fatto prima albe e notti qui variano per pochi segni il zigzag degli storni sui battifreddi nei giorni di battaglia mie soleali un filo d'aria polare l'occhio l'occhio del capoguardia dallo spioncino ecco mi viene in mente adesso mentre la leggo scusate poi ricomincio da capo anche questo filo d'aria è polare ma è anche in un certo senso qualcosa che consola il prigioniero perché arriva è l'unica cosa che arriva da fuori un filo d'aria insieme ai rumori riparto il sogno del prigioniero albe e notti qui variano per pochi segni il zigzag degli storni sui battifreddi nei giorni di battaglia mie soleali un filo d'aria polare l'occhio del capoguardia dallo spioncino crack di noci schiacciate un oleoso sfrigolio dalle cave gira arrosti veri o supposti ma la paglia è oro l'anterna vinosa è focolare se dormendo mi credo ai tuoi piedi la purga dura da sempre senza un perché dicono che chi abbiura e sottoscrive può salvarsi da questo sterminio d'oche che chi obbiurga se stesso ma tradisce e vende carne da altri afferra il mestolo anziché 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 terminare nel patè destinato agli di pestilenziali tardo di mente piagato dal pungente giaciglio mi sono fuso col volo della tarma che la mia suola sfarina sull'impiantito coi chimoni cangianti delle luci sciorinate all'aurora dai torrioni ho annusato nel vento il bruciaticcio dei buccellati dai forni mi sono guardato attorno ho suscitato iridi su orizzonti di ragnateli e petali sui tralicci delle inferriate mi sono alzato sono ricaduto nel fondo dove il secolo è il minuto e i colpi si ripetono e i passi e ancora ignoro se sarò al festino farcitore o farcito l'attesa è lunga il mio sogno di te non è finito eccoci mi sono accordo mio malgrado che c'è una marea di allitterazioni di eroe di roma e che quindi sicuramente l'ho letta in maniera terrificante e comunque questa è una poesia che secondo me meritava assolutamente di essere letta e vissuta per capire il secondo montale e per capire per vedere un'altra immagine di quella che è stata la seconda guerra mondiale per chi l'ha vista e l'ha vissuta bene io ringrazio Fabio che è rimasto con me in questa mezz'ora di lezione e ricordo domani sera l'appuntamento appunto con Arco dell'Eggen e i suoi primi re parliamo di giochi di ruolo parliamo di Roma antica e sicuramente però anche a Roma antica l'uomo ci dice montale soffriva come soffriamo noi oggi va bene grazie ancora e ci sentiamo domani sera 18 e 30 aspettando il giannissero nero a presto